Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione su Telecittà. Numeri da Covid tra i più bassi di sempre in Veneto da quando è iniziata la crisi sanitaria nel febbraio del 2020. La Regione registra 19 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore per una prevalenza dello 0,29% rispetto ai tamponi effettuati. Nessun decesso come già era avvenuto ieri. Da 48 ore il report delle vittime rimane dunque invariato. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero totale degli infetti da inizio epidemia è di 424.634. I dati ospedalieri rimangono invariati. 444 ricoverati, dei quali 392 nelle aree mediche e 52 in terapia intensiva. I soggetti attualmente positivi sono 5.880. Una scossa di terremoto di 3.2 gradi della scala Richter ha interessato la zona di Eraclea nel veneziano. Lo rende noto la protezione civile del Friuli Venezia Giulia che segnala come il fatto sia accaduto stamane alle 8.31. L'epicentro è stato individuato a 30 metri di profondità a 9 chilometri est-sud-est di Eraclea. Al momento non sono segnalati danni a cose e persone. Nel prossimo servizio ci trasferiamo nel Cadore. Dopo il nostro servizio a Telecittà su Borca di Cadore, in merito alla rotonda che vediamo alle mie spalle, i cui lavori si erano interrotti, oggi finalmente i lavori sono stati completati. Infatti venerdì della settimana scorsa, quindi pochi giorni fa, i lavori sono stati definitivamente conclusi con la realizzazione completa della rotonda, ma anche con la realizzazione di alcuni parcheggi nella zona proprio prossima al distributore di benzina e al supermercato, affinché le macchine possano sostare in maggiore sicurezza. I lavori si erano interrotti a causa di un contenzioso tra la ditta che si era giudicata all'appalto e Anas. In quel caso il sindaco di Borca di Cadore, Bortolo Sala, aveva chiesto ad Anas di fare presto e di chiudere con i lavori in corso. Borca di Cadore si trova proprio ai piedi del Ponte Pelmo e ai piedi del Monte Antelao, a pochi chilometri da Cortina, lungo la Statale 51. Era quindi importante che questi lavori fossero conclusi. I lavori del resto facevano parte delle opere che erano state cantierizzate in vista non soltanto dei mondiali del 2021, ma anche delle Olimpiadi del 2026. Ed era quindi importante per garantire una fluidità del traffico che anche la rotonda di Borca di Cadore fosse conclusa. A seguito del nostro intervento su Telecittà era intervenuta anche la ditta appaltatrice che aveva rappresentato come alcuni problemi legati al Covid avessero rallentato i lavori. Ma Anas aveva assicurato che i lavori sarebbero conclusi anche attraverso un incarico diretto da parte di Anas stesso. Oggi finalmente i lavori sono fermi e la comunità può finalmente salutare la nuova rotonda. Domenica alle 16.45 i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada a 13 tra lo svincolo di Rovigo e Villa Marzana in direzione sud per un SUV finito contro il New Jersey per poi carambolare più volte. Ferito l'autista. I pompieri arrivati con il personale di prima partenza hanno estratto il conducente che è stato stabilizzato da parte del personale del SUEM per essere trasferito poi in ospedale. Sul posto il personale ausiliario dell'autostrada e la Polstrada. Poco prima dell'evento i vigili del fuoco sono intervenuti per un secondo incidente in via Giovanni Pascoli a Fratta Polesine per lo scontro tra un'auto e una moto. Ferito il centauro. I pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli mentre il personale del SUEM ha stabilizzato il motociclista che è stato trasferito in ospedale. Illeso il conducente dell'auto. Ancora vigili del fuoco, protagonisti nel prossimo servizio. Ci spostiamo nel Vicentino. Questa mattina all'alba i vigili del fuoco sono intervenuti in località Larici di Asiago in provincia di Vicenza lungo la strada provinciale che da Camporovere va verso Trento per il rovesciamento di un auto articolato carico di legname che ha cercato di evitare un cervo. Ferito l'autista. I pompieri arrivati dal locale di staccamento hanno messo in sicurezza in mezzo mentre l'autista, riuscito a venire fuori da solo, è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferito in ospedale. Sono ora in corso tutte le operazioni di recupero del legname su un altro mezzo per poi procedere al raddrizzamento dell'auto articolato con una gru del soccorso stradale. 8 persone sono state arrestate dai carabinieri di Venezia per una tentata rapina a una gioielleria in piazza San Marco risalente al 17 marzo del 2017. Al termine dell'indagine denominata San Marco, durata ben 3 anni, coordinata da Europol, i carabinieri del nucleo investigativo e della Compagnia di Venezia, unitamente ai colleghi della polizia francese, austriaca, estone e finlandese, hanno arrestato gli appartenenti a una banda estone specializzata in assalti a gioiellerie di lusso in Europa con un bottino complessivo stimato in oltre un milione di euro. Sono stati appunto 8 di arresti eseguiti in Austria, Estonia e Finlandia di cui 5 su mandato d'arresto europeo. Nella tentata rapina a Venezia vennero utilizzate due bombe fumogene quale diversivo, tanto da far pensare addirittura a un attentato terroristico. Il colpo non riuscì per l'allarme dato da un turista che aveva fatto accorrere le forze dell'ordine nell'area costringendo i banditi ad esistere dal loro intento. Cambiamo argomento, a 90 di Piave si è svolta l'annuale assemblea delle proloco veneziane in servizio. Le proloco della provincia di Venezia in assemblea per fare un bilancio delle attività svolte nel corso dell'ultimo anno e per tracciare delle linee guida fino al 2022. A 90 di Piave, sabato, si è tenuta l'assemblea annuale che quest'anno si caratterizza per la particolarità della ripresa dopo lo stop dovuto al coronavirus per circa un anno e mezzo degli eventi sul territorio. A introdurre il presidente provinciale Fabrizio Donon, assieme al presidente della proloco di 90 di Piave Claudio Cuzzorino, che ha fatto i onori di casa come rappresentante del territorio ospitante, al presidente del consorzio delle proloco del Sile al Piave, Mariangela Doretto, che ha sottolineato l'importanza di ritrovarsi in presenza dopo molto tempo in cui gli incontri si sono tenuti online. Per l'amministrazione era presente l'assessore all'associazionismo del comune di 90 di Piave, Rosanna Concetti, la quale ha sottolineato come le proloco siano valori incredibili per il territorio, in quanto da considerare come associazione di associazioni, poiché coordinano e raccolgono molte delle attività svolte da altre realtà associative dedicate a specifiche passioni. Le proloco si sono interrogate sui metodi per la gestione della contabilità, a seguito delle entrate in vigore delle normative sul terzo settore. Molto il lavoro che è stato fatto, come il sostegno alle proloco per i bandi di concorso, il progetto Terre di Venezia, il concorso scuole e la festa del popolo veneto. Ora si cercherà di puntare molto sullo sviluppo delle progettualità, dei siti internet per una migliore comunicazione e una organizzazione più puntuale anche dei ruoli. Abbiamo intervistato il presidente dell'UMPLI, l'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia di Venezia, Fabrizio Tonò. Allora le proloco della provincia di Venezia in assemblea con i bilanci. Sì, oggi siamo qui a 90 di Piave con tutte le proloco della città metropolitana di Venezia e l'argomento non sono stati veramente i numeri, ma quello che si può fare, quello che si sta per ripartire e quindi tutti sono pronti a mettersi in gioco e programmare qualcosa. È chiaro che la paura, ma non tanto la paura, le preoccupazioni sono di ripartire in modo giusto, corretto, con tutte le precauzioni, ma ho visto oggi che tutte le proloco della città metropolitana di Venezia si stanno muovendo, diciamo che i luoghi vanno rivissuti e quindi sono in movimento. Questo è un bel auspicio per il 2021 e per i mesi che hanno a venire. Il comune di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, ha deciso di cambiare l'intestazione di una targa dedicata alle vittime delle foibe, con la precisazione che si trattò di perseguitati ed uccisi dai partigiani comunisti del maresciallo Tito. La nuova dicitura è stata aggiunta ieri alla targa del monumento eretto una decina di anni fa e dedicato alla memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo degli italiani dell'Istria, Fiume e Dalmazia. Una modifica, riferisce il Corriere del Veneto, approvata lo scorso marzo e votata da tutto il Consiglio Comunale, tranne due astenuti. Questo è un messaggio universale contro tutti i totalitarismi, ha detto il sindaco Gianfranco Trapula, d'accordo sulla proposta di modifica avanzata dal leghista Marco Peruzzi, la cui nonna era originaria di Cerso. Il comune ha dimostrato coraggio perché è la prima volta in Italia che una targa vengono indicati colpevoli di quella strage, ha osservato Coriolano Fagarazzi, presidente del Comitato Provinciale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Perplessità, invece, sono state espresse dall'AMPI, non per la targa in sé, per quanto la dicitura risulti irriduttiva, ma per le motivazioni e i non detti politici che ci possono essere dietro la decisione di aggiungere il riferimento ai responsabili. Lì ha invece precisato Michele Santugliana, presidente della sezione locale dell'AMPI. Cambiamo ancora argomento, una particolare cerimonia si è svolta presso il centro Alì di Limena. Vediamo il servizio. Venerdì 11 giugno, all'Alì di Limena, è avvenuta la prima cerimonia di consegna del contributo di 1.000 euro che ogni mese Alì metterà a disposizione per il territorio di Limena a favore delle realtà associative che animano la città. Si chiama We Love People, il progetto di promozione sociale che consente ai clienti di scegliere a quali progetti e associazioni locali destinare il contributo messo a disposizione dalla catena padovana di supermercati. Le prime tre associazioni premiate sono state l'Associazione Ottavo Miglio, Gruppo Amici della Montagna Vecchio Scarpone e l'Associazione Amici della Musica. Subito dopo la cerimonia di consegna del contributo sono state presentate le tre nuove associazioni entranti, la Proloco di Limena, l'Associazione Fidas e la Pia Opera Croce Verde Padova con sede a Limena. Questo progetto, spiega il presidente di Alì Francesco Canella, ci consente di dare ascolto e un piccolo sostegno concreto alle attività delle associazioni che animano il territorio. Ogni mese tre nuove associazioni possono candidarsi e presentare i propri progetti, mentre i clienti e la comunità hanno la possibilità di intervenire in prima persona per decidere quali organizzazioni aiutare e quali progetti finanziare. È un'iniziativa in cui crediamo e che continueremo a portare avanti. Una multa di 300 euro, combinata dal giudice di pace, è la condanna che il sindaco di Quinto Vicentino ha dovuto pagare per un banale incidente occorso a una donna che era inciampata su un piccolo rialzo di un marciapiede del paese, riportando lesioni con una prognosi di 40 giorni. La pronuncia è arrivata a cinque anni dal fatto. Ricevuta dal 2016 la richiesta danni da parte della signora, l'assicurazione del comune si era rifiutata di pagare. Quella presente sul marciapiede incriminato era un'increspatura che sporgeva per pochi millimetri. Non si poteva in sostanza parlare di incuria da parte dell'ente pubblico. E così la pensava il pubblico ministero, per il quale il sindaco Renzo Segato non aveva colpe. Ma il giudice di pace è stato di diverso avviso e ha condannato il primo cittadino al pagamento di una multa di 300 euro per lesioni colpose. Un caso che ricorda quello recente di Crema dove la sindaca è stata indagata dopo che un bambino si era schiacciato le dita sulla porta di un asilo. Il sindaco di Quinto Vicentino, che si è detto esterefatto dalla decisione del giudice, ha presentato ricorso. Adesso per la rubrica Angoli da scoprire, Emanuele Compagno ci porta a visitare il fiume Boite nell'Ampezzano. Angoli da scoprire in Vereto. Siamo andati a vedere il fiume Boite, il torrente che ha realizzato la Val Boite, la quale intercetta, tra le altre, anche Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Valle di Cadore. Il torrente si avvicina, nella zona di Fiammes che vediamo in queste immagini, alla pista dell'aeroporto di Cortina d'Ampezzo, ormai dismesso dagli anni 70. Le acque cristalline creano delle piccole spiagge, con i sassi bianchi, davvero suggestive. È un luogo ideale per delle piacevoli camminate con la famiglia. Il torrente, nella località Fiammes, incontra anche spiaggia verde, che vediamo in queste immagini. Un'area a disposizione di famiglie, con giochi, ma anche con ristoranti, per poter prendere un bel bagno di sole. L'area può essere raggiunta anche in macchina, ma vi si può arrivare anche attraverso una strada di sassi pianeggiante, praticabile anche con i passeggini, lungo uno spettacolare bosco di larici e con partenza dall'hotel Fiammes, posto poco distante. Subito dopo si incontra questa, Forra del Felizon, uno straordinario canyon scavato dal torrente Felizon, con degli angoli suggestivi ed un'acqua cristallina che fa venire voglia di fare un bagno. E come di consueto, chiudiamo dando un'occhiata all'evoluzione generale del tempo. La settimana sarà l'insegna dell'alta pressione, le temperature sopra la norma saranno la caratteristica meteorologica saliente, specie da metà settimana in poi. Per quanto riguarda il tempo, non si verificheranno precipitazioni odierne, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle zone prealpine e piede montane, a tratti parzialmente nuvoloso nuvoloso specie nel pomeriggio. Temperature in calo anche sensibili rispetto a domenica, sopra la media in modo leggero e moderato. E' tutto anche per oggi per quanto riguarda l'informazione. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Telecittà. Grazie.